Controllo del vicinato si è svolto un nuovo incontro, confronto sta dando dei buoni frutti, può darne ulteriori? Controllo del vicinato sta dando buoni frutti, può darne di nuovi e sicuramente utili se si arriva all'adesione di più cittadini ai vari gruppi di controllo del vicinato. Ieri sera ho fatto un incontro con i vari coordinatori di questi 18 gruppi, non erano presenti tutti per i vari impegni, alcuni di loro hanno fatto presente che c'è un aumento all'interno dei loro gruppi delle persone, abbiamo bisogno quindi di vedere e controllare la mappatura se allargare ulteriormente questi gruppi o crearne di nuovi e andare a coprire quelle aree che in questo momento sono scoperte. La collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine, la polizia locale e i carabinieri sul territorio sono in questo momento la migliore arma che abbiamo contro i furti sul nostro territorio. Col 2024 valuteremo di fare sicuramente una campagna pubblicitaria con delle brochure, una serata in caso in alcune aree diverse rispetto a quelle del nostro paese e un incontro con l'Università della Terza Età per cercare di coinvolgere le persone anziane che sono quelle più presenti sul territorio.